Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati! Che cos'è l'entropia? Chiunque di voi abbia fatto almeno un liceo senza dover affrontare un'università di tipo scientifico ha almeno una volta sentito parlare dell'entropia. E la definizione più quotata nei libri di testo è quella che afferma che l'entropia è la misura del disordine di un sistema. Ma questa definizione purtroppo non è troppo soddisfacente perché il disordine è un qualcosa di abbastanza vago da definire o almeno in campo scientifico in realtà si può descrivere in maniera pressoché precisa. Però qui entra in conflitto la nostra esperienza perché siamo abituati a utilizzare la parola disordine per definire qualcosa che è in realtà molto soggettivo. Facendo un esempio pratico, se vi chiedessi di dire qual è lo stato più in disordine fra un bicchiere pieno di cubetti di ghiaccio e il bicchiere dopo qualche ora con il ghiaccio sciolto al suo interno quindi solamente acqua è molto molto facile che molti di voi rispondano che lo stato a entropia più bassa quindi quello più ordinato è il bicchiere alla fine quindi con solamente l'acqua sciolta. In realtà questo è scorretto perché il bicchiere con l'acqua sciolta è in realtà lo stato più disordinato secondo questa definizione di entropia e quindi è molto facile cadere nell'inganno e non afferrare appieno la definizione soprattutto il concetto di entropia. Cerchiamo di andare a vedere insieme tramite anche qualche esempio che cos'è veramente l'entropia e anche come calcolarla. Per trovare la corretta definizione di entropia dobbiamo guardare il secondo principio della termodinamica il quale ha diverse formulazioni. Quello che ci interessa è quello che riguarda appunto l'entropia che afferma che l'entropia di un sistema isolato è una funzione non decrescente nel tempo quindi in pratica l'entropia di un sistema tende sempre ad aumentare. Questo è anche molto molto utile da un punto di vista concettuale perché ci permette di capire il perché la freccia del tempo il perché è lo scorrere del tempo come quarta dimensione ha solamente un verso quindi scorre solamente in una direzione. Il concetto dell'entropia associato al tempo viene anche citato viene anche utilizzato nel film di Christopher Nolan che è il film appunto di Tenet. Se non l'avete visto ve lo consiglio perché è un film molto bello però comunque il concetto di tempo legato all'entropia magari lo affronteremo in un prossimo video. Per capire bene come funziona l'entropia cerchiamo di prendere un esempio pratico. In realtà ci sono diversi modi in cui si può interpretare l'entropia a seconda del campo in cui stiamo lavorando. Ad esempio se prendiamo due corpi, uno più caldo e uno più freddo e li mettiamo a contatto, per le leggi della termodinamica sappiamo che il calore si trasferisce spontaneamente dal corpo più caldo a quello più freddo e mai viceversa. Certo possiamo farlo utilizzando ad esempio un frigorifero che ci permette di effettuare quindi il processo opposto però in questo caso abbiamo ovviamente l'utilizzo di energia esterna. Se staccassimo la corrente del frigorifero il processo tornerebbe ad essere quello iniziale. Avendo un concetto più generale di entropia secondo la definizione di Boltzmann l'entropia non è altro che il numero di modi con il quale possiamo definire gli stati di un sistema a livello microscopico senza che questi alterino lo stato macroscopico che detta così è una definizione molto complicata un po' da nerd ma cerchiamo di capire che cosa significa. Cerchiamo di fare un esempio molto molto semplice prendiamo dieci particelle all'interno di una scatola delle particelle ad esempio di un gas disponiamo le particelle in maniera casuale all'interno di questa scatola e tracciamo una linea immaginaria a metà della scatola stessa. L'entropia ci dice con quanta probabilità potremmo trovare uno stato specifico di questo sistema in un determinato momento quindi tornando all'esempio se avessimo tutte e dieci le particelle che per inciso sono esattamente uguali fra di loro dallo stesso lato della scatola quanti modi ci sono per descrivere questo sistema? Solamente uno quello in cui tutte le particelle sono da un lato della scatola. Prendendo invece un altro stato del sistema ovvero quello in cui una particella è dal lato destro e tutte le altre nove sono dal lato sinistro quanti modi abbiamo in questo caso? Si capisce che ci sono dieci modi possibili per trovare una configurazione di questo tipo quello dove nove particelle sono da una parte e a rotazione quella sulla parte destra si intercambia. In questo modo vediamo che la configurazione che ha più probabilità di essere trovata qualora noi guardassimo la scatola in un momento qualsiasi è quella in cui ci sono cinque particelle da una parte e cinque dall'altra quindi più sono i modi, le configurazioni del nostro sistema più è alta l'entropia proprio per questo motivo se radunassimo il nostro gas in un angolo della nostra scatola è ragionevole supporre che se tornassimo dopo qualche minuto avremmo molte più probabilità di trovare il gas diffuso in maniera uniforme all'interno della scatola come effettivamente succede nella vita reale che è di trovarlo raggomitolato nello stesso angolo o in un altro angolo nel nostro esempio abbiamo preso solamente dieci particelle quindi in realtà il fatto di trovare cinque e cinque cioè di trovare una distribuzione uniforme è sì più alta che trovarle tutte da una parte o tutte collegate diciamo radunate in un angolo ma comunque non così alta c'è comunque infatti una piccola probabilità di trovare l'entropia diminuita la situazione però cambia drasticamente quando cominciamo a considerare un numero di particelle alto che è diciamo poi una situazione più realistica e fate conto che solamente avendo 100 particelle all'interno del nostro box, della nostra scatola i modi in cui potremmo trovare le particelle uniformemente distribuite rispetto a quelle radunate che rimane invece uno solo sono dell'ordine di circa 10 alla 20, 10 alla 30 quindi enormemente più alte e se consideriamo che le particelle d'aria presenti in una stanza sono dell'ordine di circa 10 alla 26, 10 alla 25 capiamo bene come la probabilità di trovare in una stanza tutte le molecole raggruppate in un solo angolo diventa praticamente nulla e praticamente nulla è anche diciamo una definizione molto generosa la probabilità è talmente bassa che non vi capiterà mai assolutamente nella vita di trovare questa configurazione quindi tornando alla definizione principale se consideriamo l'entropia come appunto il numero di modi all'interno del quale ci può apparire la configurazione microscopica di un sistema senza cambiare quella macroscopica quindi detto in parole povere senza che il sistema visto da fuori visto dagli umani dall'occhio umano sia visibilmente diverso ecco considerando l'entropia in questo modo ci viene molto facile capire anche quei fenomeni che apparentemente sono più ordinati ma che in realtà hanno entropia più alta come ad esempio una pentola d'acqua all'interno della quale stiamo facendo il brodo noi buttiamo il dado e inizialmente c'è una massa d'acqua con un dado dentro dopo un po' il dado si sarà uniformato all'acqua e gli avrà dato il colore classico del brodo tendenzialmente una persona potrebbe rispondere che lo stato più ordinato è quello dove l'acqua e il dado si sono uniformati a formare il brodo ma in realtà se vi mettete giù a fare un attimo di conti vedrete che non è così questo perché il numero di informazioni che io devo fornire per descrivere il sistema nella situazione in cui il brodo si è già formato è molto maggiore rispetto alle informazioni che devo dare per descrivere il sistema di partenza dove il dado ancora non si è sciolto anche in questo modo ci viene facile comprendere il famoso concetto della termodinamica per cui il calore si trasferisce sempre dal corpo più caldo al corpo più freddo e non viceversa non perché viceversa non possa accadere perché tecnicamente non c'è nulla che impedisca di farlo da un punto di vista fisico il problema è che la probabilità che questo succeda è talmente bassa infinitamente bassa che semplicemente non accadrà mai la prossima volta affronteremo insieme il discorso dell'entropia legato alla linea del tempo spero di essere stato chiaro avete capito che cos'è l'entropia? fatemelo sapere ciao 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 ciao